È un parco piccolino ma non tanto che credo sia una bella risposta per i cittadini proprio ora che comincia, si spera, il bel tempo e quindi i ragazzini a giocare qui ci possono venire. È uno dei tanti parchi, Arezzo ricordavamo prima che è una delle città che ha un numero di metri quadri di verde attrezzato e gestito dall'amministrazione comunale per abitanti più alto d'Italia e questa è una caratteristica del nostro comune che ci caratterizza e che ci fa piacere di mantenere anche per il futuro. Ancora un'altra area verde restituita alla cittadinanza. Dopo i lavori di sistemazione è stato infatti riaperto il parco pubblico di Via Emilia un intervento di riqualificazione che ha interessato anche la zona esterna al parco con i lavori riguardanti le mura in Via Dovizi. Queste consistono nella riqualificazione generale che va dal rifacimento delle recinzioni dell'area per cani che è qui dietro la tinteggiatura di tutte le panchine, dei lampioni, la sistemazione dei prati e dei giochi per bambini e del campo di calcio. La semina verrà a settembre perché purtroppo siamo arrivati un pochino avanti con i lavori e quindi seminare ora significerebbe buttare via dei soldi. Pertanto ci vorrà ancora un po' di pazienza per vederlo bello al 100%. Questo è un parco veramente a misura di quartiere, ci sono tutti i servizi che ci hanno richiesto dal campetto di calcio di quartiere al campetto di palla a canestro presto ci sarà anche quello di pallavolo perché saranno fornite e installate la rete da pallavolo c'è un'area per cani quindi è apportata sia di persone anziane ma anche di bambino. Un pensiero è stato rivolto anche agli amici a quattro zampi con l'ampliamento dell'area a loro riservata e con la dotazione di un abbeveratoio per gli animali, il primo nei parchi pubblici cittadini.